Buongiorno a tutti quanti, ben trovati, grazie agli organizzatori, grazie alla regione toscana che ci ospita, grazie ai relatori prima di me che hanno dato veramente degli spunti interessanti, alcuni me li sono segnati per cercare di connettermi. Io mi chiamo Fabrizio Santini, non sono chiaramente Edo Ronchi come invece vedete dal programma, che si scusa tanto di non poter essere qui, è il presidente della nostra fondazione, ha avuto all'ultimo momento ieri una riunione con gli stati generali della Green Economy, dei quali velocemente vi parlerò, per cui si scusa di non poter essere qui, spero di poter comunque dare il mio contributo, tra l'altro all'interno della cooperativa e della fondazione io sono la persona che si occupa proprio di questi temi. Velocemente vi dirò dunque che cosa è la fondazione, che cosa fa, cioè un po' da quale pulpito viene questa predica, anzi non è una predica ma un po' di informazioni che vi diamo, qual è lo stato della Green Economy in Italia, qual è lo stato invece dei green jobs, dei lavori verdi e quali sono le competenze adeguate da sviluppare non solo nei giovani, ecco questo è l'altro elemento che sottolineerò quest'oggi, perché si possa sviluppare una società più green, come si dice, a minore tasso di carbonio, low carbon, come si suol dire. Il tutto deve sempre ricordarci, perché poi quando ci avventuriamo nei discorsi un po' troppo tecnici ce ne dimentichiamo che di questa noi ne abbiamo una soltanto, già al momento ne stiamo usando quattro, per cui diciamo che l'elemento essenziale è ricordarci sempre questo, ed è proprio per questo poi che vi parlerò anche dell'importanza delle competenze trasversali. La fondazione per lo sviluppo sostenibile è chiaramente un'organizzazione non a fine di lucro, è un'organizzazione non governativa, che però è molto vicina ai governi che si stanno succedendo, qualunque essi siano, proprio gli stati generali dei quali vi parlerò a breve, sono un'operazione di lobbying in stile nord-europeo, cioè la nostra fondazione si occupa di studi, di ricerche, di workshop, di approfondimenti, per poter dare ai decisori politici alcuni elementi di contenuto che li orientino nelle scelte, questo è uno degli elementi abbastanza critici soprattutto in Italia in questo momento. Nasciamo nel 2008 e ecco il nostro Presidente Ronchi che di nuovo tramite la sua figura vi saluta. Essenzialmente la nostra vision, la nostra mission è quella di sostenere uno sviluppo sostenibile, è quello di farlo grazie a un'economia verde, a una green economy, per cui l'interessante della fondazione ritengo che la maggior parte dei nostri soci fondatori sono delle aziende che si occupano di green economy, ci sono anche degli enti, ma principalmente la stragrande maggioranza, l'80% sono aziende, piccole, medie e molto grandi, siamo un centro di ricerca e cerchiamo di sostenere, sollecitare quello che Edronchi qualche anno fa prendendolo a prestito da qualcosa che negli anni è successo propone come essere un green new deal, cioè una sorta di accordo con anche il pubblico perché si facciano una serie di investimenti infrastrutturali, ma non più alla vecchia maniera, non più con infrastrutture che non siano verdi, là dietro appunto nella riqualificazione di tutto quello che c'è di esistente, dalle scuole ai nostri beni culturali, turistici e alla realizzazione di nuove infrastrutture che siano verdi c'è veramente molto lavoro. Questa è una piccolissima parte del gruppo di lavoro, ve la faccio vedere per farvi vedere che dietro a queste parole che vi dirò ci sono dei visi, attualmente siamo più di 40, in realtà la maggioranza è femminile anche se in questa foto non sembra e ve lo faccio vedere proprio per dirvi quali strane professionalità ci sono alle spalle di una fondazione del genere che si occupa da tanti anni di sostenibilità, ci sono scienziati politici, ci sono dei sociologi, ci sono degli ingegneri, dei filosofi, dei matematici, per cui non soltanto quelle figure che più ci si aspetta tecniche, ci sono delle figure che come me sono laureate in scienze dell'educazione, per cui ci occupiamo in particolare del settore che è la formazione, proprio per provare a porre l'attenzione sul fatto che c'è una necessità di riapproccio, approccio nuovo anche di vecchie formazioni e mestieri in un'ottica nuova. Che cosa facciamo? Come abbiamo detto, rapporti ricerchi, workshop, facciamo conoscere buone pratiche, diamo supporto tecnico a denti ed imprese per le certificazioni, ci occupiamo tantissimo negli ultimi anni di formazione, di istruzione e di educazione. Uno degli elementi che abbiamo scoperto lavorando tantissimo con le aziende è che aziende illuminate come Estra, soprattutto in quelle che oggi vengono definite le aziende Go Green, ci sono alcune aziende classificate come Core Green, cioè il loro centro, quello che fanno in termini di prodotti, di servizi, sono veramente verdi. Ma è lo stesso LOXE, l'OECD, che sta sollecitando di stare attenzione, tra virgolette, agli ultimi, cioè a chi non si è ancora convertito, perché là c'è una grande massa invece di riconversioni possibile, si possono rimpostare vecchie produzioni con nuove metodologie, producendo meno rifiuti, utilizzando in modo più efficiente l'energia. Dal 2009, sotto legge dal Presidente della Repubblica, ad Ecomondo viene dato il premio per lo sviluppo sostenibile, ogni anno vengono segnalate 30 aziende, ma partecipano al premio centinaia e anche qui vediamo veramente un pullulare di idee, di creatività tipica italiana, l'ultima che ci è rimesta particolarmente impressa all'ultimo Ecomondo che è avvenuto la diciannovesima edizione poche settimane fa a Rimini, è stata un'azienda italiana che ha inventato un metodo per disfarsi completamente dell'Eternit, per esempio, semplicemente affogandolo, affogandolo le onduline di Eternit in dei contenitori che contengono siero di latte acidificato, cioè siero di latte è andato a male, perché l'acidità attacca il CaCO3, cioè il cemento che c'è dentro l'Eternit e con dei filtri assoluti si recupera l'asbesto, cioè la sostanza che è dannosa, i metalli secondari e vengono reinseriti in un ciclo che è il ciclo della produzione di questi aggeggini qua, che sono tanto utili ma tanto inquinanti, per cui per dirvi un esempio. Gli Stati Generali della Green Economy, da quattro anni, ed è la ragione per cui Edo oggi non può essere qua, organizziamo annualmente una serie di tavoli divisi su dieci aree tematiche, che sono le principali aree tematiche dell'approccio green all'economia e per cui da quelle che ci si aspetta di più, la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, in cui l'Italia è un'eccellenza, siamo stati di recente portando una serie di aziende in Cina per far vedere le nostre eccellenze, ha degli aspetti invece che sono sicuramente stati citati più in ora, ma centrali in Italia, che sono quello che oggi viene chiamato il capitale naturale, cioè la natura per dirlo in termini molto concreti, i servizi ecosistemici che essa offre. Gli Stati Generali ogni anno producono un pacchetto di proposte legislative al governo di turno e la cosa interessante è che noi a fine anno incontriamo il Ministro dell'Ambiente ma insieme al Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e Finanza, questo è importante, cominciare a dare un portafoglio serio a chi ha intenzione di riqualificare la nostra crescita, i temi velocemente che affrontiamo, clima e energia, reporting e certificazione, rifiuti ed economia circolare, il capitale naturale, dietro ad ognuno di questi ci sono mondi, competenze, lavori, pensate a tutto quello che riguarda le città intelligenti, le smart cities, tutto quello che riguarda la mobilità sostenibile, in basso a destra vedete la foto di un corso di formazione che proprio di recente abbiamo attivato con posti italiane, in alto vedete le macchinette elettriche, posti italiane è la prima ditta in Europa per la quantità di automobili elettriche che ha, a questo punto sta arrivando a 3.000 con i free duck che sono fatti da una ditta italiana, la Ducati Energia, il corso di Eco Drive è un corso che semplicemente insegna a chi guida molto a risparmiare il 20% non cambiando automobile, guidando in un modo diverso, pensate qual è l'impatto semplicemente cambiando questa abitudine di guida. Partecipiamo a vari tavoli internazionali, l'ultima occasione grande che abbiamo avuto e qui vedete di nuovo a Doronchi è stato un convegno insieme al Papa Francesco in Vaticano sul tema giustizia ambientale, oggi è stato molto sottolineato l'importanza del patto intergenerazionale, cioè del fatto che dobbiamo ricontarci sempre quel vecchio adagio, la nostra terra è qualcosa che ci è stato prestato dalla generazione dopo di noi, non che noi abbiamo e diamo a loro, ma che loro hanno dato a noi, dunque dobbiamo assolutamente stare attenti. Ma tutto questo ha a che fare con, mi verrebbe di dire nuovo perché in Italia ancora non se ne parla molto, ma non troppo nuovo concetto di sostenibilità. Fino a qualche anno fa si parlava dei tre pilastri, il pilastro economico, ecologico e socio-culturale, oggi da una serie di lavori, da diversi anni, si sta cominciando invece a scorporare l'aspetto culturale e quello sociale per cui le aree, le dimensioni sono quattro. Ma cerchiamo di andare nel concreto e questo ci farà vedere qualche cosa anche in lancio con le possibili occupazioni. Per spiegare spesso questa slide nei ragazzi delle scuole superiori e anche più piccoli con i quali lavoro, provo a dire questo, se in un gruppo sociale, che esso sia una città, una regione, una provincia, una nazione, ci sono molte persone che dal punto di vista socio-economico non stanno bene e che culturalmente non sono integrate, a queste persone non si può chiedere di fare lo sviluppo sostenibile perché chiaramente hanno delle priorità primarie, altre e diverse. Ed ecco perché, e qui ci ricolleghiamo alla strategia Europa 2020 che è già stata sottolineata, è molto importante lavorare e l'Europa veramente è l'unico posto nel mondo che ha questo approccio in un modo integrato per una società che non sia soltanto più sostenibile, cosa importantissima, ma anche più inclusiva, più solidale, più attenta agli ultimi. Infatti la strategia 2020 non andrò troppo nello specifico perché in più occasioni è stata presentata prima di me, ma velocemente, visto che la mia relazione dovrebbe mettere in relazione quali competenze servono per realizzare questa strategia, si concentra su queste tre belle parole, smart, sustainable, inclusive, che appunto tradotte in italiano possono essere intese come intelligenti, ma non solo intelligenti, intese come un utilizzo smart delle tecnologie, anche quelle possono essere usate bene o male come un po' tutto, sostenibili e inclusive e solidali. L'interessante di questa strategia è che vengono posti, come ci è già stato detto da alcune reazioni prima di me dalla dottoressa Fiacco, per esempio degli obiettivi numerici misurabili e questo è importante. Non ve li sottolineo, li potete vedere per conto vostro, chiaramente gli altri del convegno prevederanno anche le nostre slide, le potete approfondire, ma questi sono gli obiettivi che ci stiamo ponendo. Sono già state citate prima di me le cosiddette flagship initiatives, cioè le iniziative pilota, le iniziative bandiera, le iniziative più importanti. Direi che per il nostro discorso sono interessanti molto Youth on the Move e l'agenda per le nuove competenze. Youth on the Move oggi è cambiato il sito, cioè il portale per le learning opportunities e questo è molto importante, il nuovo portale per cui il vecchio portale è stato archiviato, Move in Europe è il nuovo portale. La cosa interessante è proprio questa, che Youth on the Move è un pacchetto completo di iniziative che permette la mobilità e può essere realizzata tramite quello che in Italia è per esempio alternanza scuola-lavoro. Anche qui andrò molto avanti, non vi sottolino troppo questi aspetti, cercherò di andare nel concreto, ma l'interessante secondo me è proprio il quadro europeo sulle competenze chiave, quelle che in questo momento sono state elencate finora anche come soft skills o prima si chiamavano life skills qualche anno fa, c'è un po' un tema, i miei amici ingegneri e matematici mi prendono sempre in giro a me umanista perché i matematici e i fisici hanno delle definizioni, io li invidio, quella è la definizione, quella è la parola, noi invece sociologi, umanisti, filosofi, ognuno usa un po' la sua parola e non ci capiamo, comunque diciamo oggi si parla di competenze e non più di abilità, le abilità sono i mattoncini più bassi delle competenze, ma l'interessante, al di là dell'atto dal quale vengono, che è la raccomandazione 962 del 2006, sono proprio, e questa la vediamo, le otto competenze trasversali. Per l'apprendimento permanente si dice per il ventunesimo secolo e la cosa che vorrei sottolinearvi è che a prima vista in queste otto competenze non ci sono competenze specificatamente come ci si aspetterebbe dedicate agli aspetti sostenibili, ma in realtà c'è un trucco, il trucco è che sicuramente nella competenza numero 6, le competenze sociali e civiche, se le andiamo a scorporare e a vedere nello specifico, prevedono proprio quelli che sono gli aspetti di una maggiore attenzione da parte di noi cittadini al bene pubblico, ai beni ambientali, alla terra appunto e al nostro ambiente come rispettato. Ma la cosa interessante che è un po' una battaglia che chi come noi si occupava agli inizi di educazione ambientale, quella che oggi si chiama educazione ambientale e dallo sviluppo sostenibile, ESD in inglese, Education for Sustainable Development, EASS nei documenti italiani, compresse le ultime guide, linee guida che insieme il MIUR, il Ministero dell'Istruzione nel 2012 ha fatto insieme al Ministero dell'Ambiente, è che appunto, dicevo, i primissimi anni, a 23 anni, appena laureato, facevo l'educazione ambientale, ero guida ambientale escursionistica, andavo a scuola e la preside mi mandava sempre a parlare con l'insegnante di scienze. No! Perché l'insegnante di religione no? Perché l'insegnante di matematica no? Perché l'insegnante di letteratura no? È proprio un approccio mentale diverso, è proprio un nuovo mindset che dobbiamo avere e per cui in realtà, come abbiamo visto finora, in molte delle relazioni fatte finora, si può essere degli ingegneri bravissimi e conoscere a meno a dito quali sono le nuove tecnologie per risparmiare o produrre energie in un modo verde, ma questo non è sufficiente per la strategia 2020, in realtà per un'idea di uomo, all'università mi avrebbero detto per qual è l'idea di uomo che si ha con questo approccio anche educativo, che è un approccio nel quale appunto è importante sviluppare il pensiero critico, il che vuol dire non bersi tutto, non dire più da parte dei nostri ragazzi, mia nonna diceva l'ha detto la televisione, i ragazzi oggi dicono l'ha detto internet, ma quale internet? Il sito di Topolino o il sito dell'MIT, che non è secondario, per cui il pensiero critico è molto importante, l'imparare ad imparare è molto importante, la mappa delle proprie competenze, che cosa ho, che cosa mi manca, dov'è che posso andare a prendere quello che mi manca e per cui il panorama dei tre grandi ambiti nei quali si deve apprendere oggi, si può apprendere l'apprendimento formale, quello non formale e quello informale, che di nuovo per spiegarlo ai miei ragazzi è imparare vivendo, imparare rubando con gli occhi, come dicono in Maremma da dove vengo, osservando chi è più bravo di noi e guardando di rubare con gli occhi, questo nulla toglie chiaramente a tutti gli interventi che sono più strutturati, dei quali abbiamo parlato quest'oggi e che sono importanti, ma per dirvi che tutto questo deve avvenire in un humus socio, economico, culturale, che sia più diffuso. Ma andiamo avanti velocemente per andare invece nel clou, per andare nel clou della nostra presentazione, cioè come sta messa la green economy in Italia e per fortuna ci sono due studi recenti che ce lo dicono, uno di questi è stato presentato proprio ad Ecomondo, agli Stati Generali a novembre, questi sono degli aspetti che sono metodologici che potete vedere per conto vostro, l'importante è questa distinzione che proprio viene sollecitata dall'Ox nelle imprese Core Green e Go Green e qui arriva la bella notizia, perché questo è un altro aspetto che in Italia un po' ci manca, cioè ci diciamo soltanto le cattive notizie, pochi di noi sanno, non so se sapete qual è la percentuale italiana della produzione di energie rinnovabili, tutti mi dicono il 4, il 5, il 37%, siamo alti, abbiamo raggiunto gli obiettivi di Chioto? Sì, li abbiamo raggiunti gli obiettivi di Chioto, non per lodarci e imbrodarci come diceva mia nonna che si loda si imbroda, ma per prendere un po' di coraggio, di empowerment, di sviluppo e di speranza. Allora, le due aziende messe insieme, dicevo, i due tipi di aziende raggiungono il 31% delle aziende italiane, qui cominciamo ad essere intorno ad un terzo, vedete, le Core Green il 27%, le Go Green il 14% di tutte le aziende italiane, per cui si stanno sviluppando davvero molto. E hanno resistito alla crisi? Beh sì, hanno resistito meglio delle altre, perché è vero che c'è stata una leggera perdita, ma molto meno delle aziende che non sono né Core Green né Go Green, per cui sono più resilienti, potremmo dire, usando un termine che proviene proprio dalla fisica e dalle scienze ambientali. Ed esportano? Sì, esportano più delle altre, per cui come vedete ce ne sono molte, resistono meglio alla crisi, esportano più delle altre aziende italiane. Si fa innovazione in Italia? Si fa innovazione, ma non si investe sull'innovazione, e questo è un aspetto, cioè ci sono negli ultimi anni un aumento del 400% dei marchi eco-label, pensate, cioè di quei marchi che permettono anche a strutture ricettive, per esempio, di certificarsi per aspetti legati alla sostenibilità. Per contro, ancora, gli investimenti in Italia per l'innovazione e la ricerca sono troppo bassi rispetto agli altri paesi, per cui dobbiamo investire di più e soprattutto uno studio di recente, fatto proprio dalla fondazione, dimostra che il tipo di innovazione italiana è una innovazione, diciamo così, di secondo impatto, cioè prendiamo idee già fatte da altri paesi e le miglioriamo, le adattiamo meglio alla nostra realtà. Dunque la domanda che viene specifica e che lasciamo, non voglio che sia retorica, poi qui il nostro politico se ne è andato, è quella se di fronte a questa situazione economica italiana, veramente ai vari livelli e non soltanto a parole, per cui dallo Stato alle regioni e alle province che non ci sono più, si vuole e si desidera e si ritiene importante investire su questi temi in un modo non spot, ma in un modo che sia continuativo. Un esempio negativo di questo l'abbiamo avuto con gli incentivi per le rinnovabili, gli incentivi per le rinnovabili sono stati troppi, tutti insieme, tolti tutti insieme, questo sta creando un grosso problema occupazionale anche proprio in quell'ambito là, a differenza dei paesi del nord Europa che ne hanno dato in meno e hanno detto fin dall'inizio quando sarebbero terminati, per cui maggior continuità. Ma che cosa sono questi green jobs? Finora vi ho detto come va velocemente la green economy, i lavori secondo varie definizioni, c'è quella dell'ILO, c'è quella dell'UNEB, prendiamo questa, sono lavori che hanno a che fare comunque con l'abbassamento dell'impatto carbonico, ce lo dice una ricerca della fondazione Simbola proprio di pochi giorni prima rispetto alla nostra ricerca. Cioè attualmente il 13% della Forza Lavoro italiana è dedicato a lavori green, cioè quasi 3 milioni di persone. Su questo tema vedo che qui tra me ci sono dei tecnici, ci sono tantissimi punti di vista diversi, l'ultima ricerca Ecoris ci sottolinea che c'è da fare una gran chiarezza su quali sono i lavori green perché chiaramente in termini sempre concreti per i nostri ragazzi dicono ma una segretaria o un segretario che fa il segretario in un'azienda che si occupa di lavori green, è green o non è green? Dove lo conto? Per cui si va dai 500 mila ai 3 milioni di persone, ma l'interessante è vedere la tendenza, vedere cioè che nei prossimi anni tra i lavori green e gli ibridi, quelli che potremmo dire co-green e go-green stanno prendendo una grande percentuale delle occupazioni in Italia, per cui lo spazio c'è e c'è veramente. Dal 2009 al 2015 vedete qual è la percentuale di lavori green in Italia rispetto alla forza lavoro totale, sta crescendo in un modo veramente impressionante. Questi sono dati europei, l'andamento del lavoro, la liscia blu, non in termini assoluti ma in termini percentuali, l'andamento dei lavori verdi, guardate che è impennata, per cui un aumento del 60% dei lavori verdi fino al 2012, un aumento del 5% invece degli altri lavori dell'occupazione, dunque anche questa è una conferma del fatto che c'è spazio. Nei lavori green si assumono più diplomati e più laureati? La risposta è sì, e lo vedete da questo schema, ma quali competenti servono? E arriviamo a concludere la mia relazione. Questo è uno studio storico del 2010 del Sedefop, la cosa interessante è questo schema, perché ci dice che per una società e un'economia a basso impatto di carbonio non sono tanto utili le competenze cosiddette ecologiche specifiche, come vedete, parliamo di competenze, ma molto più quelle generiche, vuol dire iniziare a parlare di temi che vi assicuro spesso sono arabo anche per i manager di molte aziende, la circolarità, anche gli elementi di base della fisica, che nulla si crea e nulla si trasforma. Molti di noi sono convinti, anche solo emotivamente, che la spazzatura quando è fuori dal nostro giardino non è più un problema, ma esiste, che se la brucio sparisce, ma nulla si crea e nulla si trasforma, per cui ricordiamoci sempre anche degli elementi di base. Per cui vedete quanto invece, questa è la percentuale di lavoro, quanto sono importanti le competenze, quelle che venivano chiamate generiche, ma che noi oggi chiamiamo le competenze trasversali, eccole là, imparare ad imparare la cittadinanza, le competenze di base nella lingua straniera, nella propria lingua, nella digitalizzazione, le competenze ecologiche più generiche, la mentalità, e invece un aggiornamento delle competenze che già esistono. Ci sono esperienze che stanno facendo questo, le ultime due slide, sì, questa è un'esperienza di un'azienda grossetana che si occupa di assistenza e coaching per aziende start-up, che da qualche anno sta investendo sull'alternanza scuola-lavoro in un modo particolare, abbiamo parlato sinora di lavori che ci si aspetta di più, legati all'energia, ma sappiamo che l'alternanza scuola-lavoro ha a che fare ed è importante anche per i licei, sono meno ore ma ci sono, questo è un gruppo di studenti, fra i tanti, ho messo soltanto una foto, che mette insieme ragazzi di liceo, di liceo scientifico, dell'istituto commerciale e dov'è che hanno fatto l'esperienza di alternanza scuola-lavoro? In tre parchi toscani, cioè provando a vedere che c'è possibilità di lavoro anche lavorando sul turismo, sulla preservazione della biodiversità. L'arcipelago toscano per una settimana intera, il parco della Maremma per un'altra settimana, pochi lo conoscono ma in Maremma dal 2003 esiste il geoparco delle colonie metallifere che da tre giorni è finalmente sede UNESCO, è un parco UNESCO che coinvolge sette comuni, portare i ragazzi a far vedere come si lavora e poi farli lavorare con noi e con loro è stata la fondazione, è stata un po' il coordinatore, vedete il logo UNESCO ormai c'è. Questo vale anche, sono le ultime due slide veramente, per invece una serie di scuole, sette scuole superiori di Grosseto, tutte le scuole superiori di Grosseto che invece in un modo residente si sono impegnate per tre anni per una serie di riduzioni di consumi che la provincia, che oggi non c'è più e siamo un po' bloccati su questo ma vedremo come farle, ha remunerato tramite un accordo 50-50, visto proprio da un progetto europeo in Germania ed ecco l'importanza degli spostamenti. 50-50 vuol dire che tutto ciò che la scuola risparmia, la scuola è la provincia o chi paga le bollette per lei ne dà metà alla scuola direttamente e l'altra metà la versa in un fondo comune per tutte le altre scuole, per cui c'è un aspetto competitivo e un aspetto collaborativo che mi sembra molto interessante, queste sono alcune delle foto per vedere quello che è stato fatto dalla pulizia, la raccolta differenziata, la vendita di telefonini per fare soldi per la scuola, perché noi non sappiamo che i RAE sono molto ambiti sul mercato. C'è il tema della certificazione delle competenze, importantissimo, le esperienze di alternanza non si possono fare, non si possono sviluppare le competenze se poi non viene certificata questa competenza, vi ricordo che abbiamo finito, che questo succede da noi, sta succedendo da noi a Milano, a Ravi, a Gavorrano, a Firenze, per cui insieme ce la possiamo fare, grazie.